Però vi chiederei di accomodarvi nei limiti del possibile, ne parlavamo prima con i colleghi, non abbiamo mai visto l'aula magna piena così, ci fa piacere, un po' ci dispiace anche perché non tutti siete comodissimi, però insomma vedo un bell'apparato come se fossero dei giovani corazzieri, insomma, inorgoglisce. Un minuto per consentirvi di sistemarvi e poi incominciamo. Se forse anziché stare davanti all'ingresso, se vi accomodate anche per le scale, non abbiamo di meglio da offrirvi. No, in realtà qui qualche posto c'è, per i più intraprendenti qualche posto qui scelto. Sì, i ragazzi le stanno facendo, vedi? Con i telefonini ormai. No, queste sono 360 persone, 360 persone, quindi sono 400 persone. Allora stiamo per incominciare. Il collega Torino, il collega Torino, il collega Torino, che è sempre un gentiluomo, mi suggerisce e io raccolgo con molto piacere, che abbiamo tre posti qui disponibili per tre colleghe che volessero sedersi. In realtà sarebbe uno spreco lasciare dei posti vuoti. vedo che le colleghe non si fanno avanti, quindi liberalizziamo l'accesso. chi volesse può... Facciamo parola. Va bene, allora aspettiamo queste ultime persone. nessuno raccoglie. ripeto, volendo, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, chiunque voglia ci sono tre posti. allora se fate silenzio incomincierei. Buongiorno a tutte e tutti e davvero con enorme piacere che riprendiamo questa tradizione della facoltà prima e poi scuola di scienze politiche Cesare Alfieri della lettura Cesare Alfieri. Oggi è la ventunesima lettura Cesare Alfieri, appunto una tradizione che è incominciata all'inizio degli anni 90, nel 1993, che ha avuto tanti illustri ospiti. Il professor Livi Bacci, che ci ha fatto la cortesia della lettura di oggi, che oltre ad avere una quantità enorme di qualità scientifiche, io molto sinteticamente tra un momento ne enuncerò qualcuno e anche persona che ha una qualità per me straordinariamente importante, una persona particolarmente ironica, mi ha fatto un calcolo l'altro giorno che se qualcuno o tutti di voi, come vi auguriamo studentesse e studenti, doveste compiere la sua carriera accademica, vi potreste trovare a fare la 89esima lettura Cesare Alfieri nel 2091. Ve lo auguriamo. Chi di voi fosse la persona che ha questo onore, vi diciamo soltanto casomai ricordateci. Scherzi a parte, ci fa molto piacere riprendere questa tradizione che è stata interrotta ovviamente come capirete dalla pandemia, l'ultima lettura è stata nel 2019 con la professoressa Chiara Saraceno e poi in realtà il mio predecessore, il professor Conti, in realtà di miei predecessori ne vedo tanti e questo mi fa molto piacere, aveva già concordato con il professor Livi Bacci la lettura del 2020, poi come sapete a inizio di marzo del 2020 ci fu il lockdown e quindi siamo stati fermi tre anni, ma ripartiamo con tenacia da dove avevamo lasciato ed è davvero con enorme piacere che noi oggi ascolteremo la lettura del professor Livi Bacci. Il professor Livi Bacci si è laureato alla Cesare Alfieri nel 1960 ed è stato, ha iniziato a insegnare alla Cesare Alfieri nel 1966, io come vi ho detto mi limiterò soltanto ad alcuni cenni sulla intensissima attività didattica, di ricerca scientifica e anche istituzionale del professor Livi Bacci che ha avuto due lauree honoris causa nell'84 all'Università di Liegi e nel 1999 alla Complutenza di Madrid, è accademico dei lincei dal 1985 e membro dell'American Philosophical Society dal 2004 e ha avuto una quantità enorme di riconoscimenti, se li dicessi tutti mi prenderei tutta l'ora a disposizione, poi lo saluterei e c'è l'Ander Marcaso. Quindi forse è meglio essere più sintetici e ricordare per esempio gli impegni nella pubblicistica, è stato editorialista di Repubblica, ma anche aperto all'innovazione dal 2007 ha fondato Neodemos, un blog, ora un sito molto qualificato negli studi demografici e non solo ed è stato anche dal 2006 al 2013 senatore della Repubblica e membro della Commissione esteri. Livi Bacci è uno dei demografi più noti al mondo, possiamo dire che ha reinventato questa disciplina in Italia a partire appunto dagli anni 60, ha studiato fenomeni che hanno a che vedere con le mutazioni nelle popolazioni, è stato tra i primi al mondo a capire la potenza, l'importanza e anche l'inevitabilità del più grande fenomeno che sotto gli occhi di tutti che è il fenomeno demografico e del fenomeno migratorio. Tra le tante cose che potrei dire e di cui credo peraltro oggi in qualche modo ci parlerà, per esempio è indagato sulla relazione tra le carestie e le grandi crisi demografiche del passato e la crescita e la struttura delle popolazioni, ridimensionando il ruolo delle carestie come invece appunto veniva ritenuto fino all'ora come chiave interpretativa della scomparsa o comunque della diminuazione di determinate popolazioni. Inutile che io dica che è sterminata l'elenco delle sue pubblicazioni, la prima del 1960, l'ultima del 2022, mi piace citarla perché è un romanzo, il primo romanzo che ha scritto il professor Livi Baci, ma probabilmente non l'ultimo, I fuggiaschi di Cumanà pubblicato dalla Giunti. Nel mezzo centinaia e centinaia di pubblicazioni, mi limito a ricordare alcune delle principali, diciamo dell'ultimo periodo, la popolazione nella storia d'Europa, conquista, la distruzione degli indios americani, storia minima della popolazione del mondo, Eldorado nel pantano, in cammino, breve storia delle migrazioni, il pianeta stretto e poi da ultimo appunto, oltre il romanzo, nel 2022, per terre e per mari, 15 migrazioni dall'antichità ai nostri giorni. I libri del professor Livi Baci sono pubblicati non soltanto in italiano, ma hanno traduzioni in tantissime diverse edizioni, in varie lingue, quest'ultimo per esempio è stato pubblicato dalla Politi della Cambridge, questo per terre e per mari. ripeto, io finisco qui perché potrei continuare ancora a lungo e passo subito la parola con davvero grande piacere, anche con una punta di emozione, forse perché si tratta del professor Livi Baci, ma anche perché è la prima volta che in questo ruolo di presidente della scuola mi tocca fare questo compito e devo dire, e credo che questa cosa, questa sala così piena, ve lo trasmetta anche a voi, vedere questa sala così piena dà un po' il senso dell'istituzione che mi trovo a rappresentare pro tempore per questi tre anni, quindi credo che la mia emozione sia anche un po' giustificata. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Io desidero iniziare ringraziando il professor Carlo Sorrentino, professore amico Carlo Sorrentino, presidente della scuola, per queste parole così gentili e molto lusinghiere, che non temo di non meritare, con la quale ha voluto presentarmi a tutti voi, grazie a tutti per essere qua. Io, sì, per la verità sono parecchio emozionato, non solo perché vedo un'aula, ma io più di te, non solo perché vedo un'aula così piena e piena di ragazze e di ragazzi e di colleghe e di colleghi che fa un grandissimo piacere, ma emozionato perché io ho varcato le metaforiche porte del Cesare Alfieri, io lo chiamo sempre al maschile, invece qui è una cosa che va in qualche modo forse chiesto alla Crusca, se è la Cesare Alfieri o il Cesare Alfieri. C'è un dibattito su questo, ancora aperto. E mi sono, è fluido, ognuno scelga. Io ho varcato queste porte nel 1955, nell'ottobre del 1955, cioè se faccio bene la sottrazione o somma, 68 anni fa. Quindi, devo dire, ripensare a quell'epoca, allora si chiamava facoltà, già aveva cambiato nome perché prima era un istituto, poi è diventata facoltà, adesso è una scuola, vediamo che cosa ci riserva il futuro. 68 anni fa, che è una bella cifra, allora queste porte non metaforiche erano in via del Parione, ancora, si era alla vigilia del trasferimento del Cesare Alfieri e della facoltà nella sede storica di via Laura e quindi, voglio dire, tanto, tanto, tempo fa. Bene, quindi grazie, grazie all'istituzione che mi ha fatto questo onore di affidarmi questa ventunesima lettura, grazie ai colleghi che mi hanno invitato, grazie a Fulvio Conti che per primo, mi sembra era alla fine del 2019, quasi quattro anni fa, che mi chiamò e mi fece questa proposta che io ovviamente accettai con grandissimo piacere. Bene, detto tutto questo passo all'argomento, perché l'argomento è un po' criptico per la verità, ma vedrete che ve lo spiego rapidamente, diciamo, non occorre molte parole per spiegarlo, cioè politica, natura e popolazione, che cosa vuol dire? Lo vedremo, cioè si tratta dei traumi e delle sofferenze, degli shock che la natura e la politica hanno inferto alle popolazioni, soprattutto eurofee, parlerò dell'Europa soprattutto. Quando io dico popolazioni intendo dire società, in realtà. Le popolazioni sono la base della società umana, quindi quali traumi ha sofferto la società europea negli ultimi secoli e soprattutto nel secolo scorso e in questo scorcio di ventunesimo secolo? Questo è il punto. Noi non siamo purtroppo nei roaring twenties negli anni venti, ruggenti di cento anni fa, quando si era aperti all'innovazione, alla speranza, al nuovo. Siamo un po' tristi, preoccupati. Vediamo un cielo nuvoloso, vediamo una pandemia che ancora non ha levato le tende dal nostro pianeta, una guerra in corso, un cambiamento climatico che non ci sembra proporre un avvenire tranquillo. Insomma, siamo un po' preoccupati. E quindi io parlerò di, ripeto, dei traumi inferti, gli shock inferti alle società europee. Chi li ha inferti? La natura e la politica da una parte. Semplifico perché per natura intendo quelle costrizioni ambientali nelle quali noi viviamo. Gli uomini e le donne sono nate in un pianeta che è complicato, che ha delle avversità climatiche, delle difficoltà, delle costrizioni, degli eventi imprevisti, carestie, terremoti, inondazioni, microbi, quindi pandemie, epidemie e via dicendo. E questo è chiaro che cosa, in che misura, in che cosa consistono il ruolo positivo ma anche negativo della natura nel dare degli shock alle nostre società. E dall'altra parte io ho messo sull'altro fronte, e naturalmente questa è una semplificazione che vorrete perdonare, ma che comunque perlomeno semplifica il discorso, dall'altra la politica. In che modo? Mi scusino i colleghi della Facoltà di Scienze Politiche se io do una definizione del tutto rosa. L'ho scritta, quindi la leggo perché le parole sono importanti. Per politica, e mi si passi l'elementare uso della parola, intendo l'esercizio delle azioni rilevanti per la collettività e conseguenti alle decisioni di chi detiene il potere, sia questo un monarca, un tiranno, un governo, un gruppo influente, un'elite o chiunque eserciti il potere su una collettività. Quali azioni ha fatto la politica? Naturalmente ci vengono in mente le guerre, i conflitti, e che effetti hanno avuto sopra le popolazioni e le società umane, le società europee. Ebbene, allora, semplificando ancora, vedrete che il mio discorso è una semplificazione dietro l'altra, quindi anche perché il tempo non è molto. E quali sono le... nel tempo, ecco, se noi vogliamo considerare quello che è accaduto nei secoli, potremmo dire che fino al XIX secolo, grosso modo, fino all'Ottocento, c'è stato un grosso predominio della natura nell'infliggere traumi alle popolazioni europee, alle popolazioni del mondo. Per traumi, come si misurano questi traumi, queste sofferenze? Io da persona che si è esercitata sulle analisi di popolazione, ne dico uno che però conta tanto, nel determinare vittime, morti, decessi, che non avrebbero potuto, dovuto esserci se quel conflitto, quell'evento, quella... non fosse accaduto. Quindi è una contabilità, diciamo. Certo ci sono altri tipi di sofferenze che le popolazioni hanno patito, però certamente la morte è un indicatore supremo e molto efficace. E non solo questo, ma anche, ne aggiungo un altro, lo sradicamento forzato, cioè la migrazione forzata. Tu stai qua, hai vissuto, sei nato, eccetera, eccetera, ti prendo, ti sradico violentemente dal tuo ambiente. Anche le migrazioni forzate sono in qualche modo un prezzo che abbiamo pagato, che l'umanità ha pagato alla natura, agli eventi naturali e agli eventi politici e le azioni politiche. Bene, fino all'Ottocento la natura è stata di gran lunga l'ente che ha predominato nell'infliggerci danno. Vi do solo qualche piccolo dato, senza risalire ad Amo e Deva, ma già andando un po' indietro nella scuola, nella storia, un grande continente come l'America, la lotta tra l'impero britannico e la Francia, nel predominio del Nord America, si è risolta con una battaglia, la battaglia dei piani di Abraham vicino a Quebec nel 1759, che è costato un paio di centinaia di decessi, delle due armate che erano fatte di poche migliaia di persone, che hanno deciso, in pratica, che l'America del Nord era sotto l'influenza della Gran Bretagna, del Regno. Oppure la battaglia che si svolge forse due secoli prima vicino al Cusco, che decide la supremazia dei realisti, degli coloni realisti rispetto a quelli, ai coloni ribelli, e che decide anche quale sarà la politica e la storia, poi, nei tre secoli successivi dell'incontinente americano. Anche lì poche decine, addirittura poche decine di morti e due eserciti che si confrontavano. Ma ancora, se noi andiamo nel XIX secolo, noi vediamo che l'esplosione del vulcano Tambora, in una delle isole dell'arcipelago dell'Indonesia, nel 1815, fece un tale disastro nelle sue emissioni di gas tossici, di ceneri, eccetera, che cambiò il clima per un paio di anni, si parlò dell'estate, dell'inverno estivo del 1816 e poi ancora del 1817. Cambia il clima, non ci sono raccolti, i raccolti falliscono, le popolazioni sono affamate, circolano le famose febbri che sono la conseguenza poi di quasi tutte le carestie nel passato, c'è un'altissima mortalità e quindi la mortalità dell'esplosione del vulcano Tambora superò, grosso modo, le perdite inflitte in Europa dalle guerre napoleoniche, dalle guerre della Francia contro l'Europa, diciamo, in 20-25 anni di conflitti. Questo per darlo, oppure ancora, faccio ultimi due esempi che mi sembrano anche questi calzanti, il colera del 1865-66 in Italia fece 120.000 morti, in grosso modo, dieci volte tanto dei morti delle tre guerre di indipendenza. Questo sui libri di scuola non ce l'hanno mai detto, però è così, forse non sarà dieci volte, sarà otto, sarà undici, sarà sette, ma è un multiplo rispetto alle morti avute nei conflitti e potrei andare avanti in questo paragone. I conflitti cominciano a mietere quantità enormi di vittime, le prime prove sono con la guerra franco-tedesca del 1870, la sconfitta di Sedan, la guerra dura pochi mesi, però francesi e tedeschi perdono in circa 200.000 vittime ci sono di questa guerra, quindi è veramente, qui comincia l'evento determinato dalla politica comincia a prendere il sopravvento, oppure durante la guerra civile in America negli anni 60, ma già qui il panorama è diverso, le armi sono più letali, soprattutto c'è una logistica molto importante, ci sono reti ferroviarie che trasportano decine e decine di migliaia di soldati da una parte e dall'altra, quindi le guerre e i conflitti assumono una prevalenza, però diciamo fino al scoppio della prima guerra mondiale i conflitti sono in qualche modo secondari. L'Europa all'inizio del Novecento, quella che è stata chiamata Europa Felix, era un'Europa che aveva quasi un quarto della popolazione del mondo, che produceva più di un terzo del prodotto diciamo economico mondiale, che era stata in pace fin dalla guerra franco tedesca, cioè per più di 40 anni, grosso modo, aveva esportato i suoi conflitti, ben inteso, li aveva esportati in Africa, li aveva esportati in Oriente, la sconfitta di Adua costò due o tre volte tanto perdite di soldati italiani di quanto non l'avesse costato la battaglia di Solferino, che fu la più sanguinosa delle guerre d'indipendenza. Questo tanto per mettere i puntini sui lic con le quantità, che sono importanti, bisogna ragionare anche con le quantità. Quindi è un'Europa Felix che ha 40 anni di pace, tutto sommato, ha avuto 40 anni di pace. Leggo qui un brano di Stefan Zweig nel bellissimo libro L'Europa di ieri, che è un libro di chi vuole conoscere qualcosa sulla società europea prima della guerra mondiale. Forse quel libro è illuminante, oltre che anche interessantissimo. Dice, a quell'epoca, prima della prima guerra mondiale, intorno all'orgoglio per il rapido succedersi dei trionfi della tecnica e della scienza, si stava formando per la prima volta un senso di solidarietà europea, una coscienza nazionale dell'Europa. Come sono insensati, ci ripetevamo l'un l'altro, questi confini, ora che un velivolo li posso volare tanto facilmente. E quanto sono in contraddizione, come sembrano artificiose queste dogane e queste guardie di frontiera, e quanto sono in contraddizione con lo spirito dei tempi, che anzi aspira inequivocabilmente all'unione e alla fraternità universale. Queste parole riferite al sentimento delle borghese, soprattutto europee, alla vigilia della prima guerra mondiale. L'inizio della guerra mondiale nel 1914 spazzò via queste illusioni, naturalmente, come noi tutti ben sappiamo. E allora, eppure c'erano stati dei segnali di pericolo, e io ne segnalo, di questi segnali ne segnalo tre. Il primo era il concetto dell'Evensraum, dello spazio vitale. Questo concetto ha radici lontane, eccetera, eccetera, ma viene in qualche modo formalizzato da Friedrich Ratzel, un geografo, antropologo, figlio dello spirito dei tempi, proprio della cultura dei tempi, della cultura positivista. Secondo Ratzel, non era una cosa nuova, ma lui la formalizza. Le società, gli stati, sono come degli esseri viventi, biologicamente costituiti, articolati in maniera simile a un organismo biologico, che quindi nascono, crescono, maturano, e poi possono declinare o alle volte anche scomparire. E hanno bisogno di essere nutriti da un territorio, per esprimersi appieno, per svilupparsi. E se questo territorio non è sufficiente, allora premono sugli stati vicini per conquistarselo. Ratzel non pensava, pensava a questo in termini di, per esempio, di unificazione della Germania. La Germania si è unificata per garantirsi maggiore ampiezza, diciamo. Lui pensava soprattutto alle conquiste coloniali, cioè a un'espansione in territori nel sud del mondo, diremmo oggi, perché era preoccupato che di fronte ai grandi imperi coloniali come la Gran Bretagna e come la Francia, la Germania era molto molto indietro. La Russia non aveva bisogno di colonie perché avendo un territorio sterminato non aveva di queste preoccupazioni di spazio vitale, anzi ce n'aveva troppo di spazio vitale. Ecco, questo è il primo segnale di pericolo. Il secondo segnale di pericolo era l'eugenetica, cioè la, diciamo, la deviazione della genetica, dell'eugenetica dalle sue ispirazioni iniziali, che sono ispirazioni progressiste in realtà. L'eugenetica mira a migliorare la qualità delle popolazioni. Quindi è una corrente di pensiero e di azione che cerca di eliminare le malattie professionali, le malattie sociali, di migliorare la mortalità, la sopravvivenza delle madri, abbassare la mortalità infantile, eliminare le malattie sociali, eccetera, eccetera. Quindi aveva un aspetto positivo, ma c'è una deviazione, un degrado in una direzione inaspettata. Cioè l'idea che nelle società ci fossero gruppi, le élite, chiamiamole così per semplificare, che avevano comportamenti positivi e avevano tratti che erano positivi per la società e che potevano essere trasmessi alle generazioni successive. Quindi abbiamo da una parte le élite, da un'altra parte le classi inferiori, diciamo così, come si diceva allora, che invece hanno un'alta proporzione di tratti negativi. Perché c'è l'alcolismo, c'è la tendenza alla criminalità, ci sono certe malattie sociali trasmissibili e via dicendo. Allora, le élite hanno una bassa natalità, perché già erano i ceti ricchi che cominciavano a controllare il numero dei figli. I poveri, i ceti bassi invece, hanno un'alta prolificità. E quindi nel tempo si deteriora la qualità della popolazione, perché aumentano le classi basse, che quindi trasmettono valori negativi, e diminuiscono le classi, le élite, che invece trasmettono valori positivi. E quindi tutto questo apre la porta poi alla selezione naturale, apre la porta anche alla castrazione, in via definitiva, che si è fatta in paesi occidentali, che tutti noi invochiamo come esempi, ma che hanno applicato questo tipo di controllo. Quindi l'ossessione anche di essere mescolati con razze diverse, eccetera. Quindi l'eogenetica è un pericolo, perché questa deviazione, questo degrado del concetto, determina un, ripeto, è un altro segnale di pericolo. Il terzo segnale di pericolo è viceversa quello che io chiamerei, e qui sono su un terreno scivoloso, ma insomma anche qui l'involuzione del concetto del nazionalismo. Il nazionalismo è un fattore certamente importante nella determinazione di nuove entità statuali in Europa, che si liberano da, cercano di liberarsi dalla tirannide, e quindi ha un suo lato nobile, ma la sua, quando la nazione, lo Stato si identifica con la nazione e la nazione si identifica con un'etnia, cioè con una cultura, con una religione, con gruppi etnici ben definiti, allora si passa all'etnicismo esasperato, cioè lo Stato deve essere omogeneo dal punto di vista etnico. E questa è l'anticamera poi dell'etnicismo esasperato, e anche poi vedremo nelle sue forme più tremende, nelle sue degenerazioni maggiori, anche nel genocidio. E allora, questi segnali di pericolo, diciamo, portano all'idea che lo Stato possa, o addirittura debba, manipolare la popolazione, possa intervenire e manipolarla. E naturalmente questo poi ci porta alle degenerazioni estreme. Hitler vorrà 250 milioni di ariani al centro dell'Europa. Ariani che è un'invenzione, come si sa, antropofantascientifica dell'Ottocento. Gli ariani in realtà non esistono. Comunque questa era l'idea. E d'altra parte, o Mussolini con i suoi 60 milioni di italiani alla metà del secolo, cioè nel 1950, o ancora Stalin. Stalin vuole l'uomo, la risorsa più preziosa, scriverà, dopo le tragedie di cui parlerò brevemente, degli anni 30. Ma il censimento del 1937, guarda caso, invece dei 170 milioni di russi invocati o annunciati da Stalin, ne è numero 160. guai all'ufficio di censimento che vengono liquidati, come si suol dire, i suoi componenti, direttore, presidente e i dirigenti maggiori spariscono. Si rifà un censimento due anni dopo e tutto va bene, madonna Marchesa, perché tutto viene in qualche modo accomodato. Quindi questo vi dà un'idea della degenerazione. Bene, ritornando a... Per ora non ho parlato ancora dei traumi. Diciamolo brevemente. Io, avendo maneggiato per tutta la vita numeri, sono molto resistente a infliggerli a un uditorio. Però qualche numero va dato, perché altrimenti non... Il costo delle due guerre mondiali, molto brevemente, si può fare un calcolo molto generale, quello del potenziale demografico perduto, ovvero sia un esercizio fattuale, ma cosa sarebbe successo se nel decennio tra il 1914 e il 1923 quel decennio la demografia si fosse comportata nel solco della tendenza del cinquantennio precedente, che è una cosa plausibile. Cioè se non ci fosse stata l'alterazione, i traumi inferti dalla guerra. Bene, in questo caso, nella Prima Guerra Mondiale, il potenziale perduto sarebbe stato di circa 55 milioni di persone, cioè nel 1923 si sarebbero avuti 53 milioni in più di quanti effettivamente se ne ebbero, e nella Seconda Guerra Mondiale 70 milioni in più. Ovvero sia il costo, in termini di percentuale della popolazione, è una perdita potenziale del 11, 12, 13 per cento rispetto alla popolazione anteguerra del 14 o del 38. O ancora spingendo questo paradosso, diciamo se vogliamo, fino al 2000, fino alla fine del secolo, nel 2000 invece di, l'Europa invece di 700 milioni se ne sarebbe trovati 900 milioni di eurofei. Questo per dire la potenzialità del danno inflitto alla società europea dalle due guerre. Ma ci sono cose più concrete. Gli eserciti tenevano registri, tenevano contabilità molto ben fatta, anche se diciamo va integrata, corretta, eccetera, eccetera. Ma le stime delle perdite militari per le due potenze per l'intesa e per gli imperi centrali, per le due frazioni, escludendo la Russia barra Unione Sovietica, portano a circa 7 milioni di perdite di militari, più o meno distribuite equamente tra le due grandi raggruppamenti in conflitto, diciamo, in grosso modo. E un numero consistente vicino di perdite civili. Questo è un po' più difficile da contabilizzarsi, ma insomma in qualche modo le stime ci dicono che in grosso modo 7 milioni, 6-7 milioni di morti militari che non sono necessariamente morti sul campo trafitti da una palla, ma sono più spesso morti nelle infermerie, morti negli ospedali da campo, morti nelle retrovie, anche per malattie prese sul fronte. Però questo è. Nella seconda guerra mondiale le vittime sono dell'ordine di, includendo anche l'Unione Sovietica, sono dell'ordine di 20 milioni di vittime dei militari, 20 milioni di cui 10 per l'Unione Sovietica e 5, più di 10 per l'Unione Sovietica e più di 5 in Germania, senza contare un numero superiore di morti civili. Quindi questo vi dà l'idea dell'impatto tremendo per non parlare delle perdite, delle nascite non avvenute per via della mobilitazione di centinaia di milioni di soldati e dell'interruzione delle unioni di matrimoni rinviati, eccetera. C'è una caduta della natalità enorme, soprattutto nella prima guerra mondiale. Questo dà conto degli effetti. Però queste cifre buttate lì dicono poco, i milioni. Prendiamo la generazione di uomini tra i 20 e i 40 anni, da cui praticamente quasi tutti i soldati avevano quelle, i reclutati avevano quell'età. Limitandoci a questa fascia di età, nella prima guerra mondiale la Germania perde il 25% dei componenti di quella fascia d'età e la Francia ha il 20%, quindi una quota elevatissima. L'Italia e la l'Austria Ungheria un po' meno. intorno al 13-15%. Questo va a dire il depauperamento della società, non sto a dire quali possono essere state le altre conseguenze. O prendiamo la seconda guerra mondiale ancora più spaventosa, perché la seconda guerra mondiale i calcoli sono ancora più precisi, il 44% della generazione tra i 20 e i 40 anni in Germania scompare per causa della guerra. 44% siamo vicini alla metà della fascia diciamo essenziale per qualsiasi società. Si lavora, si ha la massima produttività, si fanno figli, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho bisogno di elaborare su questo. In Unione Sovietica, ho detto in Germania il 45%, in Unione Sovietica il 40%. Altri paesi dell'Europa orientale perdite di questo tipo. le perdite sono diciamo molto minori in Occidente rispetto all'Oriente, c'è come un gradiente Occidente-Oriente nel termine delle perdite con la Germania nel mezzo che ha questa spaventosa perdita. Quindi questo ci dà l'idea dell'impatto disastroso e io qui ho scritto perché non è che volevo parlare diciamo parlo a braccia ma il testo l'ho seriamente scritto perché per una conferenza Cesare Alfieri bisogna fare le cose formalmente bene quindi potrei anche leggere ma ecco ci sono due conseguenze per esempio dopo la guerra mondiale un ridisegno della carta geografica dell'Europa che si traduce se io comparo l'anteguerra con il post-guerra si ha un aumento del numero degli stati dell'Europa in cui era divisa l'Europa l'Europa era divisa in 19 stati prima della prima guerra mondiale sono 29 dopo la seconda guerra mondiale l'impero austro-ungarico si frammenta in quattro parti per esempio nascono la Polonia i paesi baltici eccetera non mi dilungo su questo aspetto ma questo è uno degli aspetti geografici e ancora l'impatto dal punto di vista della della geografia dal punto di vista diciamo aggregato si hanno praticamente 90 milioni di persone sono interessate dal ridisegno della carta geografica europea cioè si ritrovano a essere in uno stato che prima non esisteva o che aveva forma diversa quindi anche questo è un trauma indiretto o ancora all'incirca del territorio interessato era di quasi due milioni di chilometri quadrati cioè una quota di circa un terzo dell'Europa non russa non russa quindi questo è una ricaduta e poi ci sono ricadute sopra il numero delle vedove e dei vedovi creati dai conflitti gli orfani le persone invalide rese invalide che contraggono malattie che poi proseguono nel tempo il post traumatic stress disease allora non esisteva non esisteva la definizione ma è chiaro se si va a rivedere gli scritti dell'epoca e allora io qui dico che c'è anche un altro aspetto qui di frammentazione e migrazioni e anche migrazioni forzate migrazioni forzate sono le evacuazioni tremende che avvengono durante la prima guerra mondiale il Belgio per esempio viene sconvolto dall'occupazione tedesca c'è quasi un milione e mezzo di rifugiati nella Piccolo Belgio in Francia lo stesso ma soprattutto nell'Europa orientale soprattutto in Russia dove la linea del fronte cambia tra Germania e Russia cambia velocissimamente e coinvolge milioni e milioni di persone quando c'è la ritirata poi dei russi di fronte alla Germania ci sono circa diversi milioni di profughi che vengono rimandati verso l'interno dell'impero russo e che molto spesso poi non ritorneranno più nelle aree di origine quindi c'è questo trauma ma un aspetto quindi legato alle emigrazioni è anche quello di qui dico che nei decenni precedenti la grande guerra si rafforzò in varie forme la spinta nazionalista si diffusa l'identificazione tra Stato e Nazione che nelle forme più tardive implicò la sovrapposizione tra nazione e gruppo etnico predominante questi processi determinarono la disgregazione dell'impero austro-ungarico e ottomano la nascita sancita sancita dei trattati di pace e la nascita di nuove entità statali nella parte europea dell'impero russo nel giro di poco tempo c'è una scomparsa il 18 di luglio viene suicidata la famiglia di Nicola II poi c'è in rapida successione c'è l'abdicazione di Guglielmo II in Germania di Carlo II credo anche di Asburgo in nipote di Francesco Giuseppe in Austria e di Mehmet VI nel sultano dell'impero ottomano il trattato di pace cerca di ridisegnare i trattati di pace seguenti alla conferenza di Versailles del 1919 i successivi trattati di pace tenta di ridisegnare la carta geografica soprattutto dell'Europa centro-orientale seguendo linee etniche c'è l'idea dell'autodeterminazione dei popoli che è sostenuta fortemente da Wilson nel discorso che farà il congresso nel gennaio del 1914 che sarà uno dei punti centrali nelle trattative di pace è un che quindi crea crea la Polonia ritaglia i vari paesi cercando di mettere le varie etnie di ricomporre etnie separate o di dividere paesi che erano molti etnici naturalmente ha dei limiti perché il rimescolamento delle migrazioni nei secoli precedenti aveva portato a una mescolanza delle popolazioni delle etnie nell'Europa orientale c'era stata una grande emigrazione fin dal medioevo della Germania dei tedeschi verso Oriente che sono in alta proporzione in Cecoslovacchia che è una nuova creazione in Ungheria in Romania nella nuova Polonia eccetera eccetera nella Russia stessa quindi mentre era facile ritagliare l'impero austro-ungarico lungo linee più o meno etniche era più difficile farlo per la Germania perché la Germania se si seguivano i principi dell'autodeterminazione dei popoli si ricollegavano la diaspora tedesca al nucleo della Germania la Germania sarebbe uscita potenziata dai trattati di pace e non indebolita come invece avvene attraverso le sanzioni economiche territoriali amputazioni territoriali anche quindi questo è una delle conseguenze più pesanti in quanto l'orologio che sta scorrendo e allora salto qualcosa ma avete capito qual è l'idea e tra le due guerre che succede? le due guerre non è tranquillo rialza il capo la natura si potrebbe dire di sì rialza il capo con la spagnola la spagnola fa due milioni di vittime grosso modo in Europa ne fa 20 nel mondo proporzionalmente molto di più di quanto ne abbia fatto il covid ma questo è un altro discorso c'è il tifo soprattutto in Europa orientale soprattutto in Serbia e soprattutto poi in Russia ma diciamo per la spagnola c'è stata una la guerra ha significato un'accelerazione della diffusione della spagnola perché ci sono milioni di giovani che vengono smobilitati dagli eserciti ci sono i prigionieri che ritornano in patria c'è un apparato sanitario non fortissimo ma che era in parte stato indebolito perché i presidi sanitari uomini e mezzi hanno stati mandati nelle aree del fronte ovviamente quindi era sguarnito il resto dell'Italia o della Francia o che quindi c'erano vari aspetti che hanno costituito l'acceleratore di questo di questo nuovo insulto della natura diciamo qui la guerra ha dato una bella spinta non si parli del tifo perché il tifo era della varietà castrense cosiddetta cioè tipica degli assembramenti il tifo che nasce quindi nei campi di concentramento negli acquartieramenti dove c'è poca igiene c'è grande masse di popolazione di persone che stanno l'una accanto all'altra e quindi certamente il tifo ha una conseguenza diretta rialza il capo con la grande carestia non parlo di quella in Unione Sovietica del 22 ma parlo soprattutto dell'Odolomor cioè della grande carestia dell'Ucraina del Caucaso e non solo con le conseguenze in tutta la Unione Sovietica del 1932-33 una catastrofe che fu determinata da azioni politiche perché la collettivizzazione delle campagne provoca praticamente una caduta della produzione fortissima l'industrializzazione forzata valuta da Stalin ha significato assorbimento di risorse dalle campagne verso i nuovi grandi combinato verso il grande nord verso tutte le aree dove l'industrializzazione stava spinta a mille dalla politica staliniana quindi è un evento è stata voluta determinata anche dalla effurazione e dalla deportazione dei contadini ricchi dei kulaki in tre ondate Moloto dice che si trattava di un milione e mezzo un milione e ottocentomila famiglie ovvero sia di 7-8 milioni di persone che vengono deportate alcune verso il grande nord i kulaki più ricchi diciamo considerati più pericolosi e che muoiono poi tra il 1927 e il 1937 in quel decennio l'unione sovietica perde per cause della carestia in parte ma non solo della carestia cioè di un evento naturale da azioni politiche ben precise 10 milioni di abitanti grossomodo queste sono le stime che sono state fatte da Robert Conquest per esempio che poi si sono rivelate ben fondate con i dati di con altri dati che erano scomparsi negli archivi dell'unione sovietica quindi questo è un altro aspetto importante la natura ha rialzato il capo ma la politica è stata dietro al danno inferto dalla natura e poi c'è il genocidio c'è il genocidio che non ha radici ha radici lontane i pogromi in Russia negli anni 80 90 dell'800 allenano alla rimozione forzata alla pulizia etnica le guerre balcaniche prima della prima guerra mondiale allenano i paesi alla pulizia etnica il governo dei giovani turchi è un governo ferocemente nazionalista che di fronte allo scomporse dell'impero ottomano mira la turchizzazione di quello che rimane cioè dell'anatolia ma nell'anatolia ci sono milioni due milioni e passa di greci ci sono gli armeni è stato genocidio letterale genocidio è aperta la discussione cioè è aperta la discussione sulla definizione di genocidio diciamo così ma certamente è stata un'estirpazione di una di una collettività estranea alla idea della turchizzazione della Turchia estranea e quindi da eliminare il massacro la cosiddetta catastrofe del Medio Oriente la catastrofe dell'Asia Minore così la battezzata i greci che erano due milioni stavano lunga la costa del Mar Nero e nell'area di Smirne soprattutto oltre che a Istanbul che c'è una guerra ferocissima greco-turca che poi alla fine vede soccombente la Grecia grosso modo con massacri degli greci del ponto veri e propri massacri restituiti quando si poteva via dai greci verso i turchi ma insomma massacro soprattutto di quelle popolazioni questo di nuovo ci dà l'idea di come poi finisce con un grande scambio dopo il trattato di Lausanna del 1922 un grande scambio tra comunità turche rimaste nell'area greca nel nord della Grecia e comunità greche sopravvissute nel quello che rimaneva dell'impero ottomano quindi un milione e duecentomila greci ritornano e mezzo milione di turchi ritornano in Turchia di nuovo pulizia etnica pulizia etnica e confinante con il genocidio non parlo della Shoah perché questo sarebbe un argomento da trattarsi in un corso non di passaggio in una lezione ma voi tutti sapete che la Shoah è stato il genocidio è stato il genocidio cioè l'idea era quella scientifica di estirpazione di un'etnia estirpazione dall'Europa e la Shoah ahimè ha avuto in virgolette un catastrofico esito nelle tutte le popolazioni orientali dell'Europa orientale dove praticamente che erano poi la culla dell'ebraismo europeo dove praticamente gli ebrei vengono sradicati uccisi non rimane quasi nessuno in Polonia soprattutto in Ungheria nelle parti della Russia dove c'era molta infiltrazione ebraica in Romania in Jugoslavia in Ungheria cioè viene fatta piazza pulita e il destino di una grande etnia viene in qualche modo cambiato perché l'ebraismo da europeo diventa un ebraismo americano nord americano soprattutto e poi coltivato e che nasce e cresce poi in Israele ma dall'Europa praticamente quindi c'è un'alterazione quindi il trauma dei traumi io non voglio non voglio insistere su questo io e questo ci dice ci dice il costo il costo tremendo che la politica ha fatto pagare alle popolazioni europee non ho parlato delle migrazioni forzate legate alla seconda guerra mondiale che sono state tantissime sia prima che dopo c'erano 17 milioni di profughi che sono rientrati anche da aree lontanissime in Germania dicesi 17 milioni di profughi c'erano durante la guerra durante la guerra il cambiamento del fronte ha fatto deportare le gran parte delle minoranze in Unione Sovietica che erano diciamo considerate come possibili quinte colonne a cominciare dai tedeschi dalla minoranza tedesca che era forse la minoranza più grande ma c'erano minoranze dei turchi meschetti gli ingusci i ceceni i tatari della Crimea eccetera eccetera grandi minoranze che in blocco sono state deportate lontanissime in Kazakistan nel grande nord in Siberia e da altre parti e in gran parte non ritornano più nei territori originari ci sono descrizioni vivissime di queste deportazioni quindi queste sono sofferenze umane inenarrabili vengo chiudo chiudo ho cinque minuti posso è il tempo che ci vuole ci vorrebbe vorrebbe parecchio cerco cerco di di sintetizzare credo di aver dato un quadro diciamo per lo meno sommario che poi si potrebbe dettagliare andando a vedere nei libri quello che voglio parlare in chiusura è sul presente perché noi siamo veniamo e noi europei ripeto europei veniamo da non diciamo 60 anni di di pace non oso dire di pace e tranquillità perché abbiamo avuto abbiamo avuto la guerra di Yugoslavia guerra in Kosovo guerra di Yugoslavia è costato centomila vittime grossomodo quindi qualche prezzo è stato pagato abbiamo avuto due guerre in Cecenia e a petto di questi di questi episodi diciamo la guerriglia basca o quella dell'Irlanda del nord sono numericamente diciamo quasi ininfluenti no benché politicamente importantissimi quindi non 60 anni di pace ma diciamo grosso modo di tranquillità e lo abbiamo avuto anche dal punto di vista della della natura che ci ha dato parecchi schiaffetti parecchie parecchi calci negli stinchi come ci vorrebbe da dire ma non irreparabili perché tutto sommato scienza amministrazione conoscenza hanno attenuato diciamo i colpi di coda della natura per quanto riguardava le epidemie abbiamo in buona parte dominato le malattie trasmissibili infettive poi ogni tanto ne nasce una nuova l'AIDS è stata un'amara sorpresa Ebola è un'amara sorpresa minori come Deng Zika eccetera non hanno fatto grandi danni a noi ma l'hanno fatta da altre parti insomma la natura le varie varianti dell'influenza a partire dall'asiatica del 56 57 e della Hong Kong del 1963 hanno fatto dei danni ma diciamo danni che sono stati in qualche modo non dico rimediati ma insomma contrastati dalla capacità delle scienze mediche delle organizzazioni sanitarie delle organizzazioni sociali che li hanno in qualche modo controllati e abbiamo un cambiamento climatico che ci preoccupa ci preoccupa ma che voglio dire ne abbiamo coscienza e anche se non si potrà facilmente mitigare cioè mitigare nel linguaggio dell'IPCC dell'International Panel for Climate Change significa diminuire diciamo l'accumulo di gas serra e questo non è facile si può riuscire a frenare l'accumulo di gas serra o anche stabilizzarli diminuirli non è tanto semplice però ci si prova ma soprattutto la cosiddetta non la mitigazione ma l'attenuazione l'adattamento cioè tutte le politiche di adattamento l'umanità vive sia a Irkutsk che c'è un milione di abitanti e che c'è una temperatura media annua inferiore allo zero o che so io a Dubai o nella penisola arabica dove ci sono altri milioni di abitanti che vivono con 30 gradi di media quindi tutto sommato l'adattamento è possibile e bisogna studiarlo bisogna lavorarci bisogna investire e siamo capaci di farlo io non credo che noi moriremo per il cambiamento climatico sempre che si agisca nella giusta direzione purtroppo ecco un simile cauto ottimismo non ha giustificato per quanto riguarda la politica dalle cui azioni o mancate azioni possono provenire i futuri traumi specialmente non nelle forme belliche totali del secolo passato eccetera noi sappiamo sappiamo quello che sta succedendo ora c'è un conflitto in Europa ci sono conflitti però alle porte dell'Europa nella penisola arabica in Siria eccetera siamo circondati da una catena da una catena di conflitti e di situazioni che possono provocare e estendere nuovi conflitti e nuove guerre quindi le azioni deliberate dalla politica come io l'ho definita in maniera estremamente terozza della quale io mi scuso di fronte ai sapienti colleghi di questa facoltà che di scienze politiche si chiama ma ci sono i rifugiati il mondo ha 103 milioni secondo le ultime statistiche di persone che hanno sono forzatamente state sradicate dalle loro residenze e più di 30 milioni sono rifugiati internazionali cioè stanno in un paese diverso da quello in cui vorrebbero stare questa è violenza il frutto della violenza il frutto è un trauma questo è un grosso trauma quindi sui traumi della natura io credo che noi siamo capaci di difenderci col covid siamo riusciti siamo l'umanità è riuscita a generare un vaccino nel giro di 10 mesi che è una una cosa straordinaria perché esisteva una collaborazione internazionale nei centri non dei centri di ricerca collaborazione internazionale della scienza un po' meno la collaborazione tra paesi e ognuno ha fatto quello che gli fareva le chiusure le aperture eccetera eccetera però insomma c'è stata la possibilità di frenare il tutto quindi la natura la possiamo forse tenere sotto controllo la politica come vediamo no e allora io ho parlato di natura e politica in questo discorso come categorie astratte ma che ovviamente hanno una stretta interrelazione tra di loro l'ho fatto per semplificare il discorso esistono però quindi si può obiettare al mio uso così semplificato di questi concetti però alla fin fine dicono niente di più facile che obiettare che obiettare ma il braccio che mena i fendenti e che ferisce un albero è quasi sempre facilmente individuabile cioè la causa immediata anche se dietro ci può essere decisioni politiche per cui quell'albero non è stato curato eccetera eccetera ma poi c'è qualcuno che l'ha buttato giù una guerra è sempre un atto politico e un'epidemia è un evento naturale la politica che ha deciso la guerra è spinta anche da considerazioni legate alla natura un territorio da conquistare risorse da caparrarsi e la natura che ha causato l'epidemia si abbatte su popolazioni che la politica ha reso più o meno vulnerabili secondo la povertà o il benessere acquisito le difese apprestate e via dicendo però penso che questo sia scontato certo le popolazioni appaiono in questo secolo molto meno vulnerabili ai traumi inferti dalla natura ma la lunga altri stress quelli indotti dal cambiamento climatico forzato da fattori antropogenici possono avere conseguenze anche demografiche non prevedibili e alla politica sta il compito alto e complesso di apprestare le difese e di operare perché questo non avvenga quindi il futuro non mi è più chiara la distinzione tra il ruolo specifico della natura e della politica perché dovrebbero interrelarsi le azioni di controllo di ambe due però io mi fermo qua perché rispetto penso che nel 2000 nel 2000 come hai detto te ho fatto la somma nel 2091 di essere qua per fare il punto sulla situazione grazie grazie a tutti 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 per questa per questa ampissima e estremamente interessante lezione che ci ha tenuto e darci a tutti noi appuntamento casomai non del del 2091 ma all'anno prossimo per la 22esima lettura Cesare Alfieri grazie al professor Livi Braccio e grazie a tutti quanti voi grazie a tutti